Grazie a tutti. Una soglia minima legale. Questo passaggio significativo perché ci consente di rivendicare sempre l'importanza della contrattazione collettiva ma anche di fissare un paletto minimo, una soglia minima che segna quando il lavoro è evidentemente nella fase dello sfruttamento e quanto invece raggiunge la soglia di dignità. Quindi quel nostro progetto che abbiamo adesso presentato ed è stato calendarizzato va in questa direzione e diventa la base di discussione per questa riforma. L'altro passaggio fondamentale che oggi registriamo è sulla riduzione del tempo di lavoro. La prospettiva di una maggiore produttività, di una maggiore occupazione passa anche attraverso la riduzione del tempo di lavoro. C'è stata una svolta da parte della CGL anche in questa direzione e degli altri sindacati. La registriamo. C'è stata un'apertura, mi sembra, anche da parte di Schlein sulla riduzione del tempo di lavoro. Ieri, sempre a mia firma, abbiamo presentato una proposta alla Camera dei Deputati per la riduzione del tempo di lavoro e questa è la nuova frontiera che è stata abbracciata già da altri paesi e che dovrebbe consentire quindi ai lavoratori di abbracciare una prospettiva in cui si migliora la qualità del lavoro e il che significa qualità di vita. Qualche domanda? Non solo chiudiamoci una stanza, andiamo anche all'aria aperta, in qualche parco, in qualche prato. È importante ritrovarsi e continuare a avviare anzi un dialogo o continuarlo con alcuni a secondo dei casi, ma soprattutto ritrovarsi a discutere di piattaforme concrete. Ho individuato quattro importanti direttrici per costruire una visione di paese che possa contrastare questo progetto reazionario delle forze di destra che sono al governo. Una visione di paese è costruita su quattro grandi patti. Patto per la sanità, patto per la ristrutturazione del mercato di lavoro e la produttività, patto per l'istruzione e poi ancora c'è il quarto patto per quanto riguarda il contrasto di tutte le diseguaglianze. Dobbiamo assolutamente quindi lavorare in questa direzione. Questi sono i terrini di confronto per delle forze di opposizione che vogliono non soltanto contrastare il governo, ma piuttosto invece rilanciare una visione di paese che in questo momento è soffocata dalle forze del governo. Sono discorsi astratti, governerebbe con questo e con quello. Ripeto, partiamo da questi quattro grandi patti, cerchiamo di costruirli, cerchiamo di ritrovarci dei contenuti che ci possano dare un orizzonte di marcia comune e poi di lì si definirà un perimetro per le forze di opposizione. Sono temi che ha anche sottolineato il segretario. Come? Questi temi che dice lei li ha anche sottolineati, l'ash line, è l'inizio di un'alleanza. Ripeto, parlare di alleanza significa anticipare una prospettiva di strutturazione delle forze che è assolutamente premature. Noi dobbiamo dialogare, questo è il momento del dialogo, del confronto, dell'elaborazione di soluzioni concrete su questi contenuti. Un attimo. Guardi, competizione la costruite voi sui giornali, se avete avuto la bontà anche di ricostruire storicamente quel che è accaduto, il Movimento 5 Stelle è da due legislature che c'è i progetti, questo è nel DNA dell'azione politica del Movimento 5 Stelle, il salario minimo legale. Fa piacere che il PD, che sul salario minimo legale aveva molte titubanze, abbia superato questo passaggio come l'ha superato anche la CGL, lo registriamo, però non creiamo competizione. Se oggi il PD conviene su questa linea che noi abbiamo anticipato da anni, per noi è assolutamente un fatto positivo, è un fatto assolutamente proficuo. Di questa lasciamo ai politologi. Per quanto mi riguarda mi interessa che il Movimento 5 Stelle sia una forza che sappia delineare un orizzonte progressista, che sappia offrire una visione di paese e soprattutto sappia offrire ai cittadini un progetto per migliorare la loro qualità di vita. Ripeto, oggi il tempo, anche il lavoro, noi dobbiamo abbracciare una prospettiva completamente diversa. Keynes nel 1930 fece una conferenza a Madrid. Prevedeva allora che nel 2030 i lavoratori avrebbero lavorato per tre ore al giorno soltanto con un reddito pro capite invariato. Siamo lontani da quella prospettiva, ma le forze progressiste devono lavorare per quell'orizzonte. La tecnologia, l'innovazione tecnologica ci serve non per togliere il lavoro, ma per migliorare la qualità del lavoro, il che significa migliorare il tempo di vita. Una domanda, tra migranti e diritti, lei come giudica il Governo? Beh, assolutamente. Il Governo si è rivelato assolutamente inadeguato e soprattutto su questo versante ha fatto una campagna elettorale proponendo delle ricette irricevibili, inaccettabili. I cittadini hanno creduto e credo che abbiano votato il Governo anche per alcune di queste proposte irrealizzabili, tipo protezione dei confini maritimi, blocco navale, tutte cose che invece si scontrano con la dura realtà. Noi stiamo con oltre 20.000 migranti sbarcati, abbiamo raggiunto il record degli ultimi anni. Questo significa che la propaganda sta a zero in una materia così complessa. Io non ho mai parlato di sbarchi, ho sempre parlato di un problema complesso, tant'è vero che parlavo di gestione dei flussi migratori, che significa lavorare a vari livelli, lavorare con i paesi di origine di transito dei flussi, lavorare all'interno dell'Unione Europea, smetterla con la propaganda e sicuramente offrire delle soluzioni, dei percorsi praticabili che non sono certo quelli che ha offerto la destra, con cui adesso si sta scontrando e forse sta perdendo anche consenso. Poi, lo sapete, per scendere anche al concreto è assolutamente inaccettabile che di fronte a una tragedia come quella di Cutro il Governo si presenti lì a fare una sorta di passerella, improvvisando un consiglio ai ministri straordinario e presentandosi la premia in particolare, eppure impreparata sullo svolgimento degli accadimenti. Quanto riguarda i diritti, l'ho sempre detto, la prima volta che ho avuto il primo giorno mi sono insediato come Presidente del Consiglio dei Ministri e continuo a dirlo in questo rinnovato corso del Movimento 5 Stelle, come è scritto nella Carta dei Principi e dei Valori del Movimento 5 Stelle di cui ci siamo dotati e al primo posto ci sono i diritti fondamentali della persona e soprattutto forse è il diritto più centrale di tutti che è il riconoscimento della dignità di ogni essere umano. L'ho già detto dal palco, ma poi scenderemo in piazza con i sindacati, da soli, con le altre forze politiche che vorranno contrastare questo disegno di legge. È un progetto recessivo per il Paese, è un progetto che ridefinisce le alicote per come è anticipato, avvantaggiando addirittura le fasce piaggiate della popolazione. Abbiamo una controproposta, l'abbiamo presentata, faremo una conferenza stampa nei prossimi giorni, è una proposta che invece cerca di realizzare un fisco più equo e ovviamente progressivo e in particolare lancio qui un'anticipazione, noi non possiamo permettere che ci sia un divario di 100, 200, 300, 500 volte tra il top management e l'ultimo degli operai all'interno della stessa azienda. Quindi abbiamo introdotto anche un vincolo perché non siamo superati 50 volte per quanto riguarda il trattamento retributivo. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo.